La gente di Garlasco ha finalmente la possibilità di scegliere. Ciao, sono Leonardo, penso che questa iniziativa della scuola superiore sia un'iniziativa bella, perché comunque Garlasco è una città che sta crescendo, quindi ha bisogno di una scuola superiore, anche i cittadini hanno bisogno magari di una scuola superiore in cui andare, non prendere sempre il treno e quindi mi sembra che sia un'iniziativa bella. Mi chiamo Alessio Mazza, vengo da Garlasco e penso che la scuola che si aprirà è una bella iniziativa perché i genitori non pagano per i figli di andare in busso o in treno. È meglio avere una scuola qui vicino perché con le macchine o anche a piedi si può venire. Ciao, siamo Arianna e Giulia. Ciao. Per me il fatto che facciano una scuola superiore qui a Garlasco è una cosa molto bella perché permette di avere più possibilità per noi ragazzi. Per me invece è una cosa molto bella perché è innovativa e dato che siamo una grande città abbiamo bisogno di una scuola. Ciao, io sono Matteo. Secondo me è una bella iniziativa quella di fare una scuola a Garlasco perché così molti alunni potranno frequentare la scuola dove abitano e non prendere il pullman al mattino o al treno e quindi svegliarsi presto. Noi potremmo continuare i nostri studi nella città in cui siamo nati e cresciuti. Grazie. Grazie.